Il decentramento amministrativo è sempre stato un'esigenza di tutte le ultime amministrazioni locali, vista l'esigenza di trasferire competenze e risorse dando maggiori servizi ai cittadini, snellendo i processi burocratici e di governance, e diminuendo allo stesso tempo il carico burocratico del Comune. In una riunione nella sede della Quinta Circoscrizione si è fatto un appello alle istituzioni per rendere operativo il decentramento e ci sono state risposte positive. Sentiamo cosa ne pensa il consigliere della Quinta Circoscrizione, Gabriele Rossellini, del Movimento 5 Stelle. Noi siamo estremamente soddisfatti che il sindaco Cateno De Luca abbia ascoltato il nostro appello sul decentramento. Adesso per far sì che questo avvenga bisogna spostare personale, somme e competenze al più presto. Un applauso soprattutto, secondo me, lo dobbiamo dare all'assessore Crasso che congiuntamente ai deputati Germana e De Luca, Antonio, hanno peronato la nostra battaglia. Soprattutto dobbiamo ricordarci anche del presidente Ivan Kutte della Quinta Circoscrizione che ha avuto il coraggio per la prima volta di riunire tutti e sei i quartieri con i presidenti e noi consiglieri per far valere appunto i nostri diritti. Lei che vive la realtà delle circoscrizioni, cosa cambierebbe qualora si mettesse in atto questa chiusura delle circoscrizioni? No, ma cambia tanto. Intanto noi avremo, come consiglieri, come presidenti, avremo più responsabilità perché noi dovremmo andare ad approvare un bilancio e far sì che con questi soldi gestire praticamente già quello che avviene, però in tempi più celeri e dare soprattutto più risposte, più celeri appunto al cittadino comune che con il decentramento, secondo noi, avrà più voci in capitolo perché sarà più partecipe alla vita amministrativa della città. Grazie a tutti.